La settima edizione del Tanta Roba Festival scalda i motori. Parco Lungo Po Europa si sta vestendo per l'occasione. L'allestimento è partito, il main stage ha già preso forma per accogliere il 6 luglio Xavier Rad, il 7 Rosa Chemica e Villa Banks, l'8 Nugenea e Savannah Funk. A fianco del palco principale sarà allestita la zona food and beverage con diversi track per accontentare tutti i gusti. Di fronte il Tanta Roba Market, un mercatino con oggettistica da concerto. Appena dietro, in una zona loro dedicata, si daranno il cambio on stage i ragazzi di APC per far cantare e ballare il pubblico. Altri due palchi saranno attivi con diversi generi musicali e ospiti. A partire dai gruppi musicali che hanno partecipato e vinto il contest organizzato dalla crew del Tanta Roba. Più di 300 gruppi da tutta Italia hanno provato a staccare un pass per salire sul palco dell'evento per eccellenza dell'estate cremonese. Ogni sera tre gruppi apriranno la scena ad artisti del calibro del pagante. Non mancherà nella zona più verso la MAC un'area chill out con un allestimento particolare e musica elettronica.